La campagna internazionale per abolire le armi nucleari ICAN è il vincitore del premio Nobel per la pace 2017. Lo ha annunciato oggi il Comitato Norvegese del Nobel, affermando che con questo premio si vuole riconoscere il suo lavoro per attirare l'attenzione alle catastrofiche conseguenze umanitarie di ogni uso di armi nucleari. Illustrando le motivazioni del premio, la Presidente del Comitato del Nobel norvegese ha spiegato come l'assegnazione del ICAN incarna le intenzioni di Alfred Nobel, ovvero risponde a tre criteri del premio la promozione della fraternità tra le nazioni, l'avanzamento del disarmo e del controllo delle armi e la promozione di congressi di pace.